buongiorno a tutti in questo video vi faccio vedere i nuovi rossetti diva crime di nabla sono rossetti molto morbidi mentre si applicano ma diventano totalmente matte nel giro di un'oretta li sto testando ancora quindi non posso dirvi ciò che ne penso ma se mi seguite su instagram e su facebook troverete le foto dei miei test spero che questo video vi sia utile un bacione e alla prossima iscriviti al canale ciao ciao